Sarà la ditta su Bissati di Ostravetere in provincia di Ancona a realizzare la nuova scuola elementare Crescenzo Taranta di Arischia. Il comune dell'Aquila ha sottoscritto il contratto con l'azienda che si occuperà di un appalto integrato con la progettazione esecutiva dei lavori di ricostruzione dell'immobile che è stato abbattuto dopo il sisma del 2009. 1.768.000 l'importo complessivo stanziato per l'opera. Per l'anno scolastico 2019-2020 la nuova scuola più sicura, moderna e funzionale sarà messa a disposizione di tutti i bambini del territorio e grazie al nuovo plesso la frazione diventerà anche più attrattiva per le famiglie. Anche questo progetto rientra nell'accordo siglato tra Autorità Nazionale Anticorruzione e Provveditorato Interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna grazie al quale è stato possibile snellire i tempi per l'assegnazione degli appalti, un accordo che ha segnato una svolta per i processi di ripristino dell'edilizia scolastica.